Buonasera a tutti, che bello vedere il pubblico di Alessia Gazzola, perché per me siete sempre una soddisfazione. Ho presentato ormai qualche volta Alessia, un po' di volte online, ci siamo visti, abbiamo fatto delle cose anche dal vivo al Salone del Libro, però vedervi in faccia è sempre veramente bellissimo, perché siete uno dei pubblici di lettori più belli che io conosco. Quindi prendetevi questo complimento e iniziamo. Buonasera Alessia. Buonasera Bruno. Ecco, come vedete ci sarebbe dovuto essere Bruno Ventavoli su questo palco e invece trovate me. Vi chiederete, ma noi volevamo proprio vedere Alessia con Bruno Ventavoli, chi è questa? Mi chiamo Petunio Hollister, mi occupo di divulgazione culturale, mi occupo soprattutto di divulgazione culturale sui social, nello specifico di libri. Conosco Alessia da un po' di tempo e soprattutto conosco Costanza da un po' di tempo. Quando questa sera Bruno Ventavoli purtroppo ha comunicato che non ci sarebbe potuto essere perché non sta bene, hanno chiamato me e io ho ricevuto questa notizia e ho pensato ok è un suicidio fare questa cosa perché poi io sono una secchionissima che si prepara un sacco per tutte queste cose, ma per Alessia visto che sono anch'io una di voi, una del pubblico di Alessia, una lettrice di Alessia, ho detto sì. Quindi stasera mi perdonerete qualsiasi tipo di ingenuità, di piccoli scivoloni, di una serie di cose perché saremo qui a fare una chiacchierata tra amici con Alessia, tra amiche anzi. Allora visto che io non sono Bruno ma sono Petunia, benissimo siamo qui con il terzo capitolo di Costanza. Io su Costanza ci ho scommesso dalla pagina 1. Sei la madrina. Io sono la madrina di Costanza e finalmente essere qui con questo volume in mano e finalmente sapere che Costanza ha raggiunto un livello di soddisfazione per Alessia perché Alessia non è un'autrice che si accontenta, non è una che comunque dice vabbè l'ho scritto adesso lo lasciamo andare nel mondo. Tu ci tieni ai tuoi personaggi, tu te li prendi a cuore. Pure troppo. Pure troppo. E diciamo che partiamo proprio da un momento di stile psicanalisi, cioè parlerò. Senti ma com'è stato poi prenderti in cura un personaggio come Costanza, decidere di tirarlo su, di scriverlo dopo aver avuto una prima figlia a dir poco eccellente perché Alice è una figlia ingombrante. Alice è ormai entrata nell'immaginario collettivo. Come si fa per una scrittrice come te e per un'autrice dire ok io adesso prendo un altro personaggio e ci credo tanto quanto creduto in quello e ci scommetto? Beh allora chiaramente è stato molto difficile perché voi immaginate quale può essere una posizione come era la mia quando appunto ho cominciato Costanza cioè partire dall'assunto che la cosa migliore che potevo fare l'avevo già fatta cioè questo almeno po 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 po. Però nel senso questo era probabilmente anche un po' non dico quello che pensavano i lettori però chiaramente erano legatissimi a tutto il mondo dell'allieva. E ci sa perché comunque è un mondo che accoglie, che coccola, che ti fa sentire a casa. Assolutamente però è un punto di partenza estremamente difficile perché io stessa mi metto sempre comunque a paragone con un risultato molto alto e quindi è un paragone con me stessa che è peggio di paragonarsi agli altri. Ecco devo essere molto peggio anche perché tu sei una persona puntigliosa, sei una persona precisa. Puntigliosissima. Per cui è chiaro io comunque negli anni in cui scrivevo tutti i libri dell'allieva via via si presentavano alla mia mente anche nuovi personaggi, nuove idee e io cominciavo un a prendere nota, io ho tutta una serie di miei taccuini. È un certo momento quando ancora ero trasferita a Verona da poco, quando veramente si dice il caso, perché insomma non è che io guardi molto spesso la televisione, soprattutto non guardo molto spesso il Tg regionale del Veneto. È stata come dire una vera casualità. Perché proprio in quel giorno, proprio in quel momento quando ho acceso la televisione stavano parlando di questo team di paleopatologi che si era appunto recata a Verona, aveva fatto questi studi sui resti di Can Grande della Scala, scoprendo che Can Grande della Scala era stato avvelenato. Immaginatevi sul mio divano, inchiodata, paralizzata da questa scoperta. Per me è incredibile. Io credo che anche tu come mai sei una persona che veramente diventa felice con poco, io mi entusiasmo per cose assolutamente. Ma lo sai che questa cosa che è successa, ma ti rendi conto? E tu ti rendi conto. Sono passati sei, sette secoli e io, ma sì però, com'è attuale? E la storia com'è? Com'è attuale, ma soprattutto c'era una cosa pazzesca, cioè questa paleopatologia. E che cos'è? Cioè la paleopatologia mi si è aperto un mondo, perché è questa materia in cui convergono storia, archeologia, antropologia e soprattutto medicina, che comunque resta sempre il mio punto di partenza. Per cui la prima cosa ho detto ma ci sono libri con paleopatologi? Ho fatto subito, mentre ancora andava. Hai fatto analisi, analisi del mercato, giustamente. E non c'era, e non c'era. Quindi io felicissima ho trovato questa mia, questo mio Alessia dopo Alice, no? Dovevo ripartire da me stessa dopo Alice, avevo trovato. Ti vedo nei gruppi di autoaiuto per scrittori, tipo ma come si fa a sopravvivere a un personale? Come posso sopravvivere alla mia? Altro che miseri non deve morire, cioè qui veramente abbiamo. Ecco sì sì, ma è quella, ma io a tutt'oggi lo so, io quando annuncio qualcosa c'è sempre la reazione, è tutto bellissimo, ma quando esce un nuovo libro con Alice e Claudio? Quindi io questo lo so. Ma chiaramente insomma è ovvio che appunto c'era stata questo flash che avevo avuto pazzesco che dovevo fare il libro con la paleopatologa, ma questo accadeva veramente nel 2016, il libro poi è uscito nel 2019, quindi io sono stata tutto il mio tempo a concepire l'architettura di questa serie. Nel frattempo mi venivano anche nuove idee, anche per altre cose, quindi insomma io il blocco dello scrittore non l'avevo, questo no, questo dubbio non c'era, però chiaramente c'era il presentare tutte queste novità che erano dentro di me, però insomma a un pubblico che è appunto molto legato all'allieva e lo è tuttora. Non è stato semplice, questo insomma non lo possiamo, non lo posso nascondere, non è stato semplice, però insomma Costanza si è fatta il suo spazio. Però dopo tre anni comunque si è fatto abbondantemente il suo spazio adesso. Ma infatti io, è una cosa che mi fa anche molta tenerezza, che è appunto il risultato anche in classifica che ha raggiunto Costanza, di fatto non l'aveva mai raggiunto Alice, è la rivincita veramente dei secondogeniti, dei secondi figli. Mio merito che ha un secondo figlio mi fa sempre riferimento al trono di spade, mi dice sempre, ma secondo te, ma perché c'era l'esercito dei secondi figli? Perché il secondo figlio ha dentro una spinta e chiaramente una necessità di trovare la sua identità rispetto chiaramente al primo genito che è notevole e questa forza del secondo genito, di questo esercito dei secondi figli, l'ha avuta Costanza. E perché? Punto. Perché negare a Costanza il giusto spazio che le spetta? Questa sera prendiamoci veramente tutto questo spazio per la nostra... Non si parla di Alice più. Non si parla, basta. Alice chi? Alice chi? Scusate? Eh? Una mia amica scrittrice mi dice sempre la farò morire io in un romano. Beh ecco, io devo dire la verità, da buona lettrice di gialli apprezzerei molto questo prestito tra scrittori e assassini vari di personaggi celebri, perché io credo che alla fine nessuno degli scrittori riuscirebbe mai veramente ad uccidere con cattiveria un proprio personaggio, però sotto sotto nel quotidiano un po' ogni tanto delle tentazioni... Io ho un alter ego, semplicemente un alter ego, ogni tanto io ho il terrore che l'alter ego abbandoni me in autostrada, perché io stasera sono qui in carne ed ossa, ma l'alter ego fa una vita incredibile, champagne, piumini di struzzo, queste cose. E quindi un po' anch'io ogni tanto mi dico, ma io non l'ammazzerò mai lei, perché lei è immortale e lei che ammazzerà me mi abbandonerà in autostrada, probabilmente mi darà una spintarella. Però vale lo stesso anche per me, guarda. Ecco, tu hai paura. Assolutamente, sì sì sì, la temo, la temo. Ma noi torniamo alla nostra costanza, perché oltretutto costanza, chi ha già letto i primi due volumi della serie? Tanti, tanti ma non tutti. Ma si può lavorare, c'è margine. Sono tre libri, avete tempo per recuperarli? In un mesetto recuperate tutto quanto la serie, per cui, quindi anche questa sera non faremo spoiler, perché questa è la bravura del presentatore e dell'autore che ovviamente odia. Anora ho spoilerato tutto, questo dico sappiatelo, quindi tienimi buona, tienimi al guinzaglio. No, ti tengo assolutamente al guinzaglio, perché no, bisogna, visto che comunque qui, cioè Costanza, chi è Costanza? Costanza è una bellissima ragazza di 30 e qualcosa anni, più o meno. È un po' più grande di come era quell'altra, la primogenita di cui non faremo più il nome. Costanza è siciliana, è originale della Sicilia, è una ragazza, una bella ragazza, con i capelli rossi, è molto seducente anche, molto, molto seducente, molto vitale, molto vitale. Costanza è una ragazza madre, perché Costanza a un certo punto era una ragazza che era ad un convegno di medicina, era stava facendo un convegno medico a Malta, ha conosciuto questo bellissimo fanciullo che aveva prima però visto in aeroporto perché suonava il pianoforte. Vi ricordate quei pianoforti abbandonati negli atri delle stazioni? Ecco, a Costanza è toccato incontrare una persona che evidentemente non era un pianista amatoriale, ma era una persona che suonava molto bene il pianoforte, oltretutto era un bellissimo ragazzo. Lei subito, insomma, così un po', un po', un po', così. La convinta al ciao. La convinta al ciao. E così si conoscono, finiscono sulla stessa isola. Insomma, Costanza a suo convegno non ci andrà mai a questo congresso, cioè ricorderà la Valletta come uno dei posti più caldi della sua vita, mai nessun posto sarà più così caldo. Che succede? È che il giorno dopo lei si rende conto e questa è un'altra cosa che ti ringrazio di aver fatto, che a Malta purtroppo la pillola del giorno dopo non è un'opzione e nove mesi dopo nasce Flora. Flora è la figlia di Costanza e di questa avventura sull'isola di Malta. Ovviamente Costanza aveva un numero di telefono di questo ragazzo che scopriamo poi chiamarsi Marco, purtroppo, però lui ha un certo tempismo nel cambiare questo numero di telefono molto rapidamente. Quindi Marco non sa assolutamente nulla di questa figlia, niente di niente. Costanza però poi si ritrova appunto ad avere una figlia, poi a una situazione familiare in cui ha un papà, una sorella che già vive a Verona e un fratello disabile che vive però in Sicilia col papà. Si trasferiscono, inizialmente lei e Flora stanno nella natia Messina, si chiama tra l'altro Macallè, io trovo sempre molto esotico questo cognome meraviglioso. Da cosa viene il cognome di Costanza? Allora, viene dalla città di Macallè però da Camilleri che aveva scritto. Ok, fantastico, quindi è Camilleri il link. Mi piaceva, suonava bello. Costanza Macallè è bellissimo. Costanza Macallè che si pinde una laurea in medicina, un po' facendosi tirare per le orecchie, non è propriamente una secchionissima, si ritrova con una figlia piccola, ragazza madre e il posto che le viene proposto è a Verona, dove però fortunatamente abita già Antonietta, detta Toni, che è sua sorella ed è anche il suo superio. Perché visto che Costanza è una persona che è estremamente impulsiva, non ha filtri, ha fatto una figlia con uno sconosciuto, scusate, senza darle della poco di buono perché non è una poco di buono, però è una persona molto impulsiva e si ritrova in sta Verona. Cosa fa sta ragazza deliziosa però alquanto confusa con una bimba piccola oltretutto che si porta dietro? Che fa Verona? Cosa perché? Che concorso vince? Ma soprattutto come lo vince? Perché si applica questa materia che abbiamo già citato prima? Ma neanche si applica perché comunque è un concorso praticamente per titoli per cui lei si limita a mandare la domanda. C'erano soltanto due, come dire, c'era soltanto una candidata, era lei e quindi facile facile, ecco insomma, si è accollata questo posto. Io l'ho immaginata, sai come quelle borse, un po' quegli assegni di cerca, quelle situazioni comunque ovviamente sotto i mille euro e quindi comunque… Alessia essendo… avendo lavorato tanto in campo medico e sapendo bene come funziona anche tutta quanta la parte di borsisti universitari, tutta una serie di cose, cioè sai bene anche questa parte, gli assegni di ricerca anche… hai descritto anche un mondo del precariato in qualche modo molto… Per quanto adesso le cose sono anche un po' cambiate perché in realtà i medici trovano anche con molta più facilità rispetto per esempio ad empimia e ormai li assumono mentre sono ancora specializzando in questo diciamo come inciso, per cui al momento la medicina è tornata un po' come ai tempi di quando mia madre mi diceva ma dovresti iscriverti a medicina perché ho medicina, trovi lavoro sicuro e poi in realtà io figlia degli anni 80, tutta la nostra generazione in realtà ha patito tantissimo e tutti i miei colleghi di corso praticamente ce ne siamo dovuti andare. Vabbè ma detto questo, questo sempre non divaghiamo, però insomma ora le cose sono un po' cambiate, però io ho immaginato comunque che lei, fresca di specializzazione, in effetti in Sicilia esiste il blocco delle assunzioni ancora, soprattutto quelle a tempo indeterminato, quindi ho immaginato che lei, insomma, sua sorella, lei procura questo link di questo posto in cui è proprio richiesto un altro no patologo. Lei tra l'altro non è per niente motivata ad andare a fare questa cosa, proprio a zero. Zero, zero. A zero. Zero. E Verona è fredda. È fredda, sì. Come ci si trasferisce da Messina a Verona? Una tragedia, visto che comunque questa è parte della tua biografia. Questo sì, questa è una cosa che le ho voluto dare in comune con me perché come Alice aveva l'essere una specializzante in medicina legale e basta perché poi tutto quanto il mondo di Alice era tutto di fantasia. analogamente Costanza non è il mio vissuto, però ho creato questo punto di contatto fra me e lei, cioè il lasciare la propria città per trasferirsi in un'altra. È successo a me, è successo a mille altri. Ho pensato che fosse comunque un tipo di sensazione di necessità e di sensazione che deriva dalla necessità molto diffusa e quindi ben riconoscibile anche dai lettori dalle elettrici. Quindi io mi sono trasferita che era novembre, sono partita con le maniche corte, sono arrivata a Verona, insomma vabbè lasciamo perdere. E diciamo che l'impatto con Verona di Costanza. L'impatto, il giorno prima, la cosa è andata così, il giorno prima è partito questo camion con tutte quante le nostre cose, la casa era stata svuota. E poi si è trasferita comunque con Stefano, con tuo marito. Sì, sì, sì. Si è trasferita in due. Era partito da un po', ero rimasta io. Col camion. Parte questo camion nei traslochi prima di me naturalmente perché doveva fare appunto tutta la traversata dello stivale per arrivare quindi con tutte le mie cose, ciao. E io la sera sono andata a dormire da mia madre e ho il ricordo che la sera così, ma facendo, c'è sempre lo zapping in tv che c'entra. E vedi che lo zapping in tv è sempre fondamentale. Vedi com'è sempre risolutivo. Ho beccato, Harry ti presento Sally e mi sono calmata. Quindi è stato questo, è stata la mia vigilia. Niente, poi sono partita l'indomani e in effetti non sono voluta tornare a casa quella che per me era casa, cioè Messina per un anno intero. Perché ho detto sei torno, mi viene male. Del ritorno avrebbe potuto essere. Lo so che del ritorno non lo affronto. Quindi insomma è una cosa chiaramente che ho sentito tanto e anche per questo sicuramente l'ho voluta dare a Costanza perché credo comunque che l'esperienza di cambiare città, soprattutto quando già ai tuoi 30 anni non lo fai a 18 perché vai a studiare fuori. Certo che c'è un altro spirito. C'è uno spirito più di sfida, di conquista, di avventura. Ma poi dici vabbè. Di poca responsabilità. O magari vado altrove. C'è anche una cosa non definitiva. Chiaramente invece nel mio caso era una cosa che aveva in sé tutta quanta la forza, invece anche di una scelta definitiva indubbiamente. Per cui insomma c'era tanto dentro e quindi questo sicuramente a Costanza l'ho dato come tratto in comune. Per cui ogni tanto anche un po' di nostalgia, soprattutto nel secondo libro, In Costanza e Buoni Propositi, l'ho fatta trapelare. Ho fatto anche un capitolo intero ambientato a Messina che lei torna. Insomma è un qualcosa che, un punto di contatto che mi stava molto a cuore e quindi c'è, però l'unico in realtà a parte, oddio, l'unico. Poi c'è la maternità che però chiaramente è vissuta in una maniera un po' comune a tante persone. È vissuto sicuramente anche in una maniera molto diversa perché appunto lei si è trovata in questa situazione. Appunto lei è molto, alla fine è una che davvero butta il cuore oltre l'ostacolo. A un certo momento lei senza pensarci troppo. Infatti è anche il bello del personaggio di Costanza. È questo il bello, ma io l'ho voluta così anche perché in questo è proprio tanto diversa. E per me la scrittura, il bello della scrittura in verità è proprio questo. Cioè mettersi i panni che non sono propri, sperimentare com'è essere persone diverse. E quindi io invece che sono una molto, molto razionale, che pensa sempre a tutto, ci pensa mille volte prima di fare una cosa. Dopo che l'ho fatta però poi sono indecisa e ci ripenso. Di che segno sei tu, Alessia? Io sono Ariete, ma non me la giustifico questa cosa. Eh no, non me la giustifico. No, perché Ariete dovresti essere fumantino. Ma infatti... Che è spensarci, avrei qualche ascendente strano. No, sono leone. Quindi non si capisce questa cosa. La luna è scorpione. Ma pensate che sembra una ragazza così a modo, così carina, tenerina. Ha il fuoco dentro. Allora... Sei un tank in realtà. Ma non so chi ti devo dire. Ma forse no, hanno sbagliato a trascrivere l'ora di nascita, l'unica spiegazione possibile. Non mi capacito. Vabbè, forse l'astrologia non serve a niente. Forse è una cosa effettivamente che non corrisponde alle cose. Mentre invece tu però sei attenta quando dai i segni zodiacali ai tuoi personaggi. Mi piace quello. Ma sì, perché io li do sempre. Per esempio Marco l'ho voluto gemelli. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo assolutamente che era gemelli. Ne ero certa. No, no, ma è una cosa che mi diverte. Ecco, questo sì. Però ripeto, non mi capacito nel mio caso appunto. Perché invece io ho tutt'altro tipo di temperamento. Lei invece è una, così che a un certo momento la cosa la fa e basta. Però è bello e divertente comunque potersi creare non degli alter ego, ma proprio dare vita ad altri personaggi che hanno caratteristiche peculiari. Immaginarsi come si vive quando si è semplicemente diversi da te, no? Cioè questo è il bello. Io lo dico sempre, mettersi nei panni degli altri. Ed è molto realistica, soprattutto Costanza, perché davvero sembra che l'abbia scritta tu perché conosci molto bene. Anche perché poi questo flusso di coscienza che ha lei, questo raccontarsi le cose, viverle, queste vocine che fa dentro di sé questi riferimenti super hyperpop. Questa filosofia, questi insegnamenti filosofici che da se stessa sono bellissimi. Sì, sì, lei ha degli intellettuali di riferimento altissimi, tipo Candy Candy, tipo Rossella O'Ara. Questi sono intellettuali di riferimento, diciamo. Ognuno, ma perché non sono intellettuali di riferimento? Non sono intellettuali, sono role model, chiamiamoli. Esattamente, diciamo, la sua Bibbia è la verità che non gli piace abbastanza, cioè quel film lì lo sa a memoria. Per cui lei ha tutto questo suo immaginario pop, che parzialmente è anche il mio, pure io lo conosco a memoria, la verità che non gli piace abbastanza. Assolutamente, assolutamente. Bene, arriviamo, diciamo, anche un po' a un altro nodo di Costanza, perché comunque questi sono dei, come possiamo definirli, i libri Costanza? Di gialli rosa? Ma guarda, io non lo so, non lo dà tutt'oggi, non è che io l'ho capito, se sono dei gialli, dei gialli con un po' di rosa, dei rosa con un po' di gialli. Qua io ho pure messo lo storico, poi siccome non mi pareva abbastanza, io mi stupo i vampiri. E chi più ne ha più ne metta? Appunto, torniamo appunto al, visto che comunque tu dici sì, fai la persona che ci sorride molto, però in realtà so che tu studi un sacco, quando devi comunque scrivere tutte le parti storiche, tutta la ricostruzione, perché io comunque quando ho capito che stavo scrivendo il nuovo Costanza, ho iniziato a vederla su Instagram, che bazzicava a Venezia, cioè che hai iniziato a, proprio a muovermi si dentro qualcosa, ho capito che era l'archivio di Stato di Venezia, che stava scrivendo una storia gialla, appunto ambientata a Venezia, e mi dicevo, beh l'avrà ambientata nel Settecento, mi facevo tutte delle domande, perché poi appunto è tutta questa, ma tu hai sempre avuto la passione per la storia, oppure è una cosa che a un certo punto hai detto, vabbè, paleopatologa e storico, bene, adesso affronto questa cosa davvero a rietisti, sei bruttata, hai detto non ne so nulla, ma diventerò master, diventerò un master di questa cosa. Allora, mi piaceva, cioè a scuola la studiavo con profitto, però neanche in una maniera, devo dire, così appassionata, mi piacevano i romanzi storici, questo così, però veramente l'idea di dover scrivere questo romanzo, in cui comunque chiaramente essendoci la paleopatologia, ci doveva essere un giallo storico, chiaramente non l'avrei affrontata, se non avessi avuto un interesse appunto per il romanzo storico, per la storia in generale, ma nemmeno questo punto di partenza che io avevo, in realtà mi preparava a quanto poi mi sarebbe piaciuto, cioè per me è stata una scoperta. Tu da buon amante dei gialli hai trovato nella storia stessa, degli appigli che... Ma pazzeschi, ma soprattutto io mi sono reso conto che proprio mi piace studiare la storia, al punto che quest'anno avrei pure pensato di immatricolarmi, di prendere la triennale. Se tu decidi di immatricolarti a storia, io giuro, io sono laureata in lettere, giuro che mi faccio la seconda laurea, giuro, faccio anch'io, faccio anch'io cosa, almeno mi prendo la seconda laurea, io ho dato qualcosa come 11 esami di storia, per cui la prendo facile la seconda laurea. Penso io da medicina, che vuoi che mi convalidi. Ti aiuto, non ti preoccupare, ti aiuto, non ti preoccupare. Guarda, ce la prendiamo insieme la seconda laurea. Guarda che... All'università degli studi di Torino, prestigiosissima. Eh sì, sì. Sì, scusate, andiamo a Palazzo Nuovo, facciamo le ragazzine a Palazzo Nuovo. Facciamo le studenti. Studenti e università. Quindi tu hai capito che comunque la storia era proprio una cosa che ti... Ma sì che in realtà, ripeto, per quanto potesse piacermi e intrigarmi da prima, non era niente in confronto poi a quello, che ho scoperto dentro di me, nel momento in cui mi sono approcciata a Costanza. Proprio ho scoperto che mi piace. Ho cominciato a leggere una quantità di libri, ad ascoltare i podcast del professor Barbero. Li sono tutti, ma pure più di una volta li ho sentiti, perché ormai, come li ho sentiti tutti, ormai li risento. La crisi del Trecento l'ho sentita qualcosa come tre, quattro volte. Ho scoperto che mi piace, mi sono appassionata tantissimo. E quindi poi con questo in maniera particolare, perché con questo, cioè a me piaceva molto il Medioevo, e quindi i primi due libri li ho ambientati nel Medioevo, ho studiato tanto e via dicendo. Con questo, la genesi di questo libro è stata molto particolare, quindi forse vale la pena raccontarlo. Assolutamente sì. Allora. Vai tu. Ok. Però a un certo punto asciugatemi. Io ti asciugo, ti faccio sempre. Perché io parto. Allora. Non fare spoiler. No. Allora, io volevo scrivere un romanzo ambientato nel 1618, perché nel 1618 a Venezia c'era stata la congiura di Bedmar. Ovvero. Cos'è? Questo, cioè si diceva che gli spagnoli avessero congiurato, contro la Repubblica di Venezia. In realtà oggi si è propensi a pensare che Venezia avesse congiurato contro gli spagnoli. Capite? L'oggettività della storia, i fatti, la verità. Non esiste, infatti, l'oggettività. A me piaceva come periodo, perché oltretutto è anche lo stesso periodo un po' del dominio spagnolo del nord italiano, i promessi sposi, insomma, pensavo che tutto sommato l'opera sì, sicuramente sarebbe stata ambiziosa, ma quantomeno c'era una cornice narrativa, per noi italiani, comunque molto chiara. E quindi mi sembrava una buona idea. Mi sono messa a leggere, a studiare, avevo pure scritto i primi due capitoli, già della versione storica, se non che sempre, perché stavo approfondendo, mi sono imbattuta in un articolo. E in questo articolo, diciamo, il tema era l'ingresso delle famiglie fiamminghe nel patriziato veneziano. In particolare si parlava di una famiglia e quando io ho letto quest'articolo scritto da una professoressa olandese, io ho trovato il romanzo, ma era pronto, fatto e finito, perché si raccontava di questo padre, la madre non c'era, era morta, presumibilmente di parto, aveva queste due figlie. Una era caduta dal balcone di un teatro, ma giovani, l'altra l'hanno fatta sposare di gran corsa con una sorta di, come posso dire, aiutante di bottega del padre. Però il padre aveva ingiunto che non, cioè che avrebbero dovuto prendere il cognome di lei. Quindi in realtà questo ragazzo sarebbe stato veramente soltanto un fantoccio, tanto per dire facciamo sposare, ma quello che si deve tramandare è il nostro nome, la nostra ricchezza. E questa cosa gli era stata peraltro suggerita dopo la morte della prima figlia, appunto in circostanze così tragiche, sulle quali peraltro si eravano dette le peggiori cose. Ma non diremo altro. Ma non diremo altro. Gli era stato consigliato peraltro da un amico, quindi mi sono detta ma qua c'è tutto quanto il romanzo è perfetto. Cioè io ho visualizzato tutto e a quel punto mi sono messa a studiare per capire questa famiglia e soprattutto cosa si sapeva veramente su questa ragazza che era caduta a teatro, che mi sembrava veramente un'immagine proprio anche che visivamente parla, ora al netto del tragico, però un'immagine visivamente parlando molto forte. Cioè avevo il mio romanzo e però mi sono scontrata un po' a volte con l'impotenza dello storico perché certe volte tu sei affamato, vorresti trovare sempre di più e però non trovi perché a volte le piccole storie si perdono nella grande storia. quindi io di questa ragazza volevo conoscere almeno il nome, insomma qualche circostanza in più. Ho chiesto a professori in tutta Europa, mi hanno mandato appunto all'archivio di Stato a Venezia, ho studiato anche lì, è stato stupendo anche perché poi l'archivio di Stato di Venezia immagino che sia un posto magnifico. Poi la possibilità di poter consultare questi documenti che sono veramente documenti di questa storia di fine 600 per l'esattezza quindi proprio quella carta, la scrittura adesso per me è stata un'esperienza straordinaria per cui è da lì che poi è nata la cosa che ho detto basta che mi devi scrivere la storia perché è una cosa che mi piace veramente tanto l'ho detto anche a caso ma io ho sbagliato tutto non devo studiare medicina ma penso non è mai troppo tardi non è mai troppo tardi assolutamente veniamo un po' anche nel vivo della storia questa famiglia poi tu la batteggi al Masar l'hai battezzata tu sì l'ho cambiato perché dal momento che mancavano tanti dettagli su questa ragazza e soprattutto poi sempre studiando articoli e storie documenti e via dicendo mi sono imbattuta in una storia di un'altra famiglia ancora che mi sembrava pure molto intrigante allora io cosa ho fatto le ho fuse insieme Merge esatto e ne ho creata una famiglia tutta mia sempre in ambito spagnolo sono voluta rimanere visto che da lì ero partita e poi appunto come vi dicevo non mi sembrava abbastanza e quindi ho aggiunto anche questo elemento del vampirismo ma perché perché di fatto è una storia di stranieri di stranieri rifiutati di stigma quindi esatto visti chiaramente cioè non è che erano vampiri fondamentalmente erano stranieri e soprattutto si inserivano nella nobiltà veneziana nel patriziato con potere e risorse che i patrizi non avevano più e quindi non c'è di meglio che la maldicenza la maldicenza per neutralizzare qualcuno per renderlo innocuo per confinarlo è questa cosa e Costanza come si imbatte in tutto questo perché Costanza noi l'abbiamo lasciata adesso chi non l'ha letto ancora alla fine del secondo c'è una sostanziale rivoluzione lavorativa per Costanza perché sceglie una situazione un pochino più stabile sicura e anche meglio retribuita stiamo parlando di una ragazza madre che deve pensare a sua figlia anche se però il padre è volenteroso il padre a un certo punto lei fortuitamente recupera questo marco e il padre ovviamente quando scopre di avere una figlia di tre anni questo è bellissimo perché Costanza è un personaggio nei suoi genesi lo rivede e dice è una figlia di tre anni però è volenteroso sì ovviamente si innamora di questa bambina però lei appunto accetta un incarico da un'altra parte sta a Venezia lascia diciamo che fa una scelta però poi questa scelta non è poi così univoca perché all'inizio di questo terzo romanzo comunque con la paleopatologia continua un po' a strizzarci l'occhiolino perché c'è l'ultima discendente della famiglia Almazan che decide di fare fare un'indagine aspetta il momento in cui mi confondo tra paleopatologia paleopatologia perché potrei chiamarla paleopatologia potrei fare dei disastri in questo momento tipicamente esce paleontologia paleontologia tutte queste cose c'è un momento invece paleopatologia io ce l'ho ben chiaro ma ogni tanto ho una certa ora mi confondo decide di fare delle indagini proprio ai colleghi agli ex colleghi di Costanza e Costanza viene richiamata sul campo perché c'è bisogno di medici esperti per questa cosa ed è una sorta di appalto privato che viene dato all'università un'indagine proprio perché questa donna sceglie negli anni venti del ventunesimo secolo di fare luce su questa storia familiare sì io l'ho immaginata come questa eccentrica nobile donna veneziana evidentemente con tante risorse e tanti fondi per cui approfittando del fatto che insomma in questa chiesa dove venivano sepolti appunto i suoi avi deve essere ristrutturata interamente lei decide di approfittare di cogliere questa occasione per appunto fare scoperchiare si sepolchi e capire una volta per tutte che problemi avevano questi almasan erano veramente vampiri quindi di fatto io metto le mani avanti non è un fantasy no non è un fantasy assolutamente genere tenete conto che alcuni tipi di anomalie che sono state nel corso del tempo identificate con qualcosa di paranormale in realtà non avevano nulla di paranormale anzi avevano proprio dei motivi medici e quindi anche questa cosa si regge non hai scritto un libro di fantasy anzi per me è stato proprio divertente in verità questo aspetto da medico questo è molto interessante esatto fare un'indagine di tipo medico scientifico e le ho esaminate io a uno a una quali potevano essere tutte quante le malattie che ovviamente con le conoscenze di fine 600 anche con i tipi di trattamenti di cui si disponeva a fine 600 quindi in realtà pochi quali appunto dicevo quali malattie potessero dare luogo a questa maldicenza e comunque insomma però questa anza va a un certo punto è molto dubbiosa se accettare o meno questo incarico perché avrebbe sottratto del tempo a sua figlia perché si trattava di un incarico oltre al lavoro che lei già svolge a Venezia a un certo punto riceve una telefonata dal padre di sua figlia che dice ma sai che devo andare a fare un intervento su Venezia fa l'architetto è un architetto specializzato in restauri conservativi Marco è una e diceva sai sarò in questa chiesa c'è anche una cripta con delle ossa ha sbloccato l'indecisione ha sbloccato immediatamente l'indecisione visto che si trattava della stessa chiesa perché i due si sono ritrovati ma non stanno insieme no 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 e quindi anziché magari come le persone normali dire vabbè ma sai conosciamoci meglio diamoci appuntamento vediamoci anche anche che non per forza in quanto noi siamo genitori e condividiamo con questa bambina e via dicendo no loro non se lo dicono e piuttosto si mettono nelle condizioni lui per un verso lei per l'altro di trovarsi a lavorare in una cripta con il rischio pure che gli venga la tisi ma va bene così una cripta nei sotterranei di Venezia che peraltro sono rarissime naturalmente ce ne sono poche Venezia ovviamente è una città che si presta che si prestava alle cripte per cui in realtà anche su questo fronte mi sono molto documentata non ho dubbi perché veramente sei una persona di una un topo di biblioteca è un topo di biblioteca però voglio dire comunque ci è costruito come va con Flora il rapporto tra i suoi genitori e la piccola Flora è presente tanto in questo come è il rapporto madre figlia anche a distanza perché comunque si crea lei proprio sente davvero questo momento in cui dice però per fare questo lavoro devo stare devo sacrificare del tempo per mia figlia eh sì questo è un po' penso anche quello un tipo di sentimento eh come dire riconoscibile sicuramente per per tante madri che che lavorano è che a un certo momento devono delegare eh date parenti e via dicendo ecco credo che come tipo di sentimento quello che ho che ho fatto esternare a costanza a proposito appunto dei dei sacrifici e della perdita magari di momenti che non torneranno eh chiaramente sono sono delle riflessioni che ho fatto magari anche io a volte come madre insomma questo questo mi sembra logico però anzi io mi considero comunque abbastanza privilegiata perché nel momento in cui ho deciso di mettere da parte la medicina e di dedicarmi soltanto alla scrittura e questo accadeva quattro anni fa chiaramente adesso dispongo di una certa flessibilità cosa che prima non avevo quindi posso anche fare un po' un paragone e dire come era prima come adesso diciamo che adesso mi sento ovviamente più presente e sono per questo mi considero molto fortunata io ho potuto scegliere ma c'è chi non può scegliere e quindi diciamo a queste madri che non possono scegliere che devono lavorare e che devono a volte anche sacrificarsi è sicuramente dedicata a buona parte delle riflessioni di costanza nella speranza ecco che possa essere un po' quella spalla su cui non lo so ti appoggi e ti senti meno sola sì costanza è anche la spalla dei disastrati sentimentali delle persone perennemente in bilico sui sentimenti delle seconde scelte altro che seconda figlia proprio anche lei patisce molto questa cosa di essere una seconda scelta perché a un certo punto vabbè altro piccolo spoiler Marco ha una storica fidanzata di cui non dirò altro in questo momento quindi lei non è che dice ciao hai una figlia di tre anni bene sono qui abbiamo passato dei bellissimi giorni bene possiamo diventare una figlia è un po' più complicato di così complicato del resto lei le cose poi a Malta erano anche degenerate ed erano andate molto storte si erano salutati molto malamente molto malamente si erano direttamente salutati proprio perché lei aveva intercettato questo scambio di messaggi fra lui e quella che di fatto è sempre stata la sua fidanzata e che lui tradiva ripetutamente quindi chiaramente c'era anche per lui da fare tutto quanto un suo percorso sicuramente di crescita e anche di capire perché la tradiva questa ragazza ecco insomma quindi lui è un personaggio che in realtà mi ha dato grandi possibilità anche lì di immedesimazione cosa voglio dire che quello che dicevo prima a proposito del mettersi i panni degli altri cioè nulla può essere più lontano da me di un trentenne come Marco e invece è stato divertente immaginare come possa funzionare la sua testa è molto divertente in effetti bell'indagine anche perché lei ha raccontato bene devo dire la verità conosco parecchi trentenni alquanto confusi per cui come dice lui lui è in una zona grigia di sentimenti sei poi un gemelli quindi sarà in una zona grigia perennemente io adesso faccio la domanda che si fa a ogni scrittore di grande successo quando si conclude una presentazione a cosa stai lavorando se ce lo puoi dire se la casa editrice e il tuo agente che sono qui in sala te lo permettono se non sei blindata da cose ovviamente piccoli spoiler ma diciamo che adesso a me piacerebbe tanto scrivere un libro un po' con con lo stesso effetto buon umore che è stato quello di Averton House che è stato un libro che ha portato molto buon umore a me e tanto anche a chi lo ha poi apprezzato ecco insomma il motivo per cui Averton è piaciuto alle persone a cui è piaciuto era proprio per questa positività questo buon umore e allora mi piacerebbe tanto scrivere una cosa così genere Averton in un altro posto cioè non stavolta non in Inghilterra ma non so da un'altra parte facciamo spoiler però non sarà l'Inghilterra no però insomma comunque ho scritto il titolo eppure la frasina è Fergo e lì sono ferma però l'idea c'è però stai stai lavorando comunque io sento di dire che non so se dobbiamo salutare Costanza questa sera non lo so non ho idea bisogna leggerlo per capire che cosa ne sarà di Costanza io posso soltanto dire che sono molto felice del successo al terzo romanzo che secondo me si porterà dietro anche gli altri due e diventerà un'altra serie di culto di Alessia Gazzola perché comunque secondo me è un personaggio che merita moltissimo soprattutto perché è figlioccio a me quindi io sono molto orgogliosa di lei quindi mi raccomando andate parlatene leggetene bene diffondete il verbo di Costanza perché io sono molto affezionata a questa figliola un po' un po' scavezzacollo anche ogni età un po' un pochino così un po' che fa le cose senza pensare sì lei da questo punto di vista era quella più difficile perché tutte le altre ragazze hanno un vissuto un po' come dire più semplice a parte Lena ecco Lena era un'altra che aveva i suoi problemi ma Costanza era una che era molto facile da giudicare esatto e anche questo io mi sono voluta mettere in gioco perché chiaramente nel momento in cui scrivi un personaggio che non è perfetto volutamente che fa delle cose che non lo so appunto potenzialmente lei a un certo momento soprattutto nel secondo libro potrebbe essere giudicata come quella che fa un po' da terzo incomodo l'ho sempre messa in posizioni scomode e quindi però anche tanto simpatica sì ma infatti secondo me proprio trovarsi cioè come lei viene fuori dal trovarsi sempre in queste posizioni scomode credo che sia un po' il suo punto di forza soprattutto ripeto a me come scrittrice ma spero anche poi a chi legge i libri consente in qualche modo di mettersi nei panni a volte appunto di persone che si ha la tendenza anche a giudicare ecco mi sembra molto sana questa cosa posso dire mi sembra molto sana perché avere sempre personaggi perfetti conclusi in se stessi molto determinati nel modo di porsi pensarsi e io per questo che proprio a Costanza voglio molto bene quindi vi chiedo di fare un caloroso applauso a Costanza Macallè e a Alessia Gazzola grazie mille di tutti grazie grazie mille di tutti